Questo è un progetto che abbiamo realizzato attraverso una convenzione tra il Comune di Napoli e la Fondazione Scolas Occurrentes. È un progetto che si chiama Napoli Città Educativa, coinvolge scuole secondarie di primo grado e di secondo grado di tutta la città su alcune tematiche che sono tematiche tirate fuori proprio dai ragazzi. In questo caso stiamo lavorando sul pregiudizio e sulla violenza che sono due fattori di disorientamento, disagio e dolore per i ragazzi. Dopo l'incontro con Papa Francesco in Vaticano per celebrare il decimo anniversario della Pontificia Scolas Occurrentes alla quale il Comune di Napoli ha scelto di aderire come partner del progetto Scola Cittadinanza Napoli Città Educativa stamattina davanti al Palazzo San Giacomo la manifestazione degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Napoli di diversi quartieri della città pubbliche e private, religiose e laiche e a diverso indirizzo artistico, tecnico, scientifico e umanistico. Il risultato è stato un incontro pieno di diverse sorprese. Con tanti linguaggi abbiamo lavorato con la musica, con la pittura, con la scrittura e questo progetto poi continuerà nel corso dell'anno anche attraverso lo sport e il cinema.